Per vedere ho bisogno di prove vi succederà qualcosa. Non aver paura. La controvertita è la vita. Vado a Gerusalemme. Sta attento. Comincia a succedere qualcosa, eh? qui avvengono cose strane è un posto magico com'è possibile? che sei? te l'ho detto io voglio sapere adesso se tu esisti e perché sono qui ho incontrato mia madre morta sono in analisi con Gesù postmoderno tutte cose che possono essere sovsognate perché io? chi mi ha rappresentato in tanto tempo può avere sbagliato non essersi adeguato mi fa paura quel paradiso io non sono virtuale sono qui dimmi della Sacra Signore sei tu? il sistema è vecchio non si è evoluto scricchio sono qui anche per questo grazie a tutti Grazie a tutti.